buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vedremo un'altra soluzione per rimuovere oggetti o persone dalle foto soluzione si chiama in paint può essere utilizzato come programma installabile su windows e mac oppure anche online oppure anche utilizzando delle applicazioni sempre per windows nello windows store e per iphone nell'app store ma andiamo con gradi se noi andiamo su order qui vediamo che in paint è tutt'altro che gratuito perché bisogna acquistarlo sia per windows sia per mac a 20 euro più o meno poi ci sono magari altre offerte quindi consideriamo per adesso la soluzione online quindi si va qua su upload l'immagine si carica l'immagine che ha dei limiti come vedete 10 megabyte come pesantezza massima e 4,2 megapixel come massima risoluzione andiamo appunto su upload dell'immagine prendiamo un'immagine qualsiasi l'immagine viene caricata e questo è l'editor per eliminare gli oggetti o le persone in questo caso qua ci sono vari strumenti possiamo eliminare delle cose con il marker tool oppure con il lazzo oppure con la poligonale se sbagliamo possiamo andare nella gomma per esempio se io utilizzo il marker tool posso eliminare questo cartello posso aumentare la dimensione vado su erase e elimino il cartello naturalmente poi il risultato può essere buono o meno come vedete in questo caso bisogna fare una nuova eliminazione ma torniamo indietro e vediamo invece come utilizzare il lazzo per esempio se noi vogliamo eliminare con il lazzo con la poligonale più complicato perché bisogna cliccare vedete e quindi creare una poligonale in questo modo mentre il lazzo è più interessante con il lazzo possiamo disegnare con il cursore intorno alla persona all'oggetto da eliminare in questo modo dopo che abbiamo completato la circunnavigazione dell'oggetto questo verrà evidenziato di rosso come se noi avessimo utilizzato il marker tool questo punto andiamo su erase si attende come vedete qui viene usato una specie di clone come su photoshop e quindi è stato aggiunto il ragazzo che stava accanto quindi dobbiamo fare l'operazione semplicemente questo modo andare ancora su erase e possiamo qui per esempio c'è una cosa che non funziona ancora molto bene possiamo fare così andare ancora su erase come vedete adesso magari si può togliere anche l'ombra perché l'ombra chiaramente non è compatibile con la foto non essendoci più il ragazzo qui in questa posizione quindi possiamo magari eliminarla con il marker tool erase poi eventualmente possiamo eliminare anche quest'altro ragazzo magari con il lazzo il 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 probabilmente resterà qualcosa perché accanto ci sono quattro i due ragazzi quindi ecco come vedete è restato quest'altra persona perché probabilmente utilizzano una specie di clone come su photoshop quindi dobbiamo ripetere operazione selezionando andando su erase ripetere ancora una volta e dobbiamo eliminare anche questa parte qui di sotto is come vedete è piuttosto semplice e funziona anche abbastanza bene come vedete il risultato è veramente ottimo magari c'è qualcosa ancora qua e a questo punto possiamo scaricare però vedete se noi stiamo sul download cosa succede succede che noi possiamo scaricare soltanto in bassa risoluzione mentre per scaricare in alta risoluzione dovremo acquistare che se scarichiamo in bassa risoluzione ecco qua andiamo a vedere di quanto è questa bassa risoluzione adesso del mouse proprietà dettagli 600 x 400 pixel quindi piuttosto bassa come risoluzione probabilmente la foto come vedete è molto piccola però si può ovviare per esempio si va su f11 questo modo per avere la foto tutta e più grande possibile e quindi poi possiamo utilizzare un cattura schermo di windows oppure nel mio caso per esempio snaggit possiamo catturare la foto in questo modo e dobbiamo possiamo salvarla poi foto 2 salva torniamo su f11 per ritornare a schermo normale andiamo su download foto 2 testo del mouse proprietà dettagli come vedete è 1540 x 1025 pixel perché questo magari è un computer di 1920 x 1080 pixel ma se avete un computer con uno schermo più grande potete scaricare la foto ancora con una risoluzione più grande in paint è anche qua su microsoft store che si può ottenere però come vedete ha acquisti in app probabilmente quindi anche con questa applicazione del microsoft store si potrà scaricare la foto soltanto in bassa risoluzione in paint inoltre anche su app store non è su android su app store però è a pagamento come vedete 2,99 dollari ultima cosa ecco torniamo nella home come vedete è rimasta la nostra foto qua se ci fossero delle difficoltà per che in paint ha un numero massimo di foto che processa possiamo eliminare i cookie di in paint per esempio su chrome si va su impostazioni privacy e sicurezza poi si va cookie e altri dati dei siti si scorre in basso fino a mostra tutti i cookie e i dati dei siti qui si digita in paint e come vedete questi sono i cookie di in paint quindi si possono eliminare andando qua a rimuove the in paint.com cookie e quindi noi è come se non avessimo mai utilizzato questo strumento in paint lo potremmo riutilizzare tutte le volte che ci fare ammesso che esista appunto delle limitazioni come il numero di volte che noi si possono processare le foto con in paint e questo è tutto una soluzione interessante per rimuovere oggetti come avete visto è piuttosto semplice anche piuttosto preciso alla prossima volta